La notte è il momento più duro, il giorno no perché trovi sempre quelle persone buone che ti aiutano, ti fanno stare in posti caldi ma la notte non c'è nessuno, la sara non c'è nessuno. Quante sono le persone che vivono in strada della nostra città? Un dato preciso sulle persone che sono in strada non l'abbiamo, noi come unità di strada in un anno contattiamo più di 500 persone. Ti senti un po' solitudine, un po' abbandonato diciamo, cerchi di stare il più a contatto possibile con la gente perché sennò diventa tragico. Chi sono queste persone? L'80% sono maschi intanto, sono quasi tutte in età lavorativa perciò fra i 35 e i 55 anni, prevalentemente in questi ultimi anni sono stranieri, ora gli italiani sono un 30%, il resto sono quasi tutti stranieri. Che hanno perso il lavoro, che hanno avuto separazioni, tutta una serie di traumi sociali, familiari, relazionali, alcuni anche incidenti fisici che hanno condizionato appunto il percorso lavorativo. Senza lavoro, come senza padre, senza mamma e tante persone così. Il comune con il progetto Senza dimora offre servizi di strada e di strada, di primo contatto che vanno appunto dal lavoro in strada e contatto per distribuzione di coperte e bene di prima necessità, all'aggancio mediante un centro di urno dove gli operatori incontrano le persone offrendogli un'accoglienza di urna e visione di film, lettura di giornali eccetera. Dopodiché abbiamo l'accoglienza notturna e emergenziale, sostegno legale con degli avvocati, docce, da quest'anno abbiamo anche la gestione delle docce e tutto questo in rete con gli altri servizi comunque che sono presenti costantemente nel territorio. Possiamo conoscere questi servizi un po' più da vicino? Beh, se volete possiamo già cominciare con il lavoro che svolge la Caracol e ci vediamo questa sera presso l'accoglienza notturna a Marghera. Inizia poco prima delle 19 la lunga notte degli operatori della cooperativa Caracol. Quando con Dario arriviamo nella sede di Via Fratelli Bandiera, all'interno del centro di accoglienza, Vittoria è già in fornelli, intenta preparare il caffè ed il tè che verranno poi distribuiti e senza dimora. Mano a mano arrivano anche i suoi colleghi che si occupano di un'altra importante operazione, rifare i letti e preparare le stanze che accoglieranno i 24 fortunati che potranno questa notte dormire sotto un tetto. Solo 24 posti a fronte di richieste ogni sera più del doppio maggiori. Scegliere chi si e chi no ci confidano i ragazzi è ogni volta un compito non facile e spesso doloroso. Arriva intanto anche il presidente e boss della Caracol Momo, ovvero Davide Mozzato. Con lui diamo un'occhiata al magazzino preoccupantemente vuoto, almeno per quanto riguarda il reparto coperte. I 300 capi raccolti tra i cittadini, dapprima nel centro di Mestre, poi al Palaplip, tra gli anziani del progetto Occiocio e infine a Venezia, più i circa 150 donati da due alberghi sono stati ormai quasi tutti consegnati. Noi siamo arrivati a un picco di quasi 80 persone sulla scazione di Mestre, con 24 posti letto, quelli che stanno fuori, capisci? Usando molta parsimonia, che ne va via anche a 10 al giorno, nei periodi 10-15, nei periodi di ghiaccio. Una breve riunione operativa e poi, per i ragazzi della Caracol, è già tempo di prepararsi, indossando la sgargiante divisa da lavoro e caricando in furgone i generi alimentari che saranno distribuiti. Allora, 8.30, stiamo per partire, cosa avete preparato? Allora, come ogni sera prepariamo due termos di caffè e due termos di tè per Mestre e un termos di tè, uno di caffè per invece l'equipe, il gruppo che va a Venezia. Poi portiamo fuori anche delle merendine e dei fazzoletti di carta che vengono distribuiti alle persone che incontriamo. La prima tappa serale del furgone della Caracol è come sempre Venezia. La modalità è diversa da quella della terraferma perché, da una parte, Venezia ha meno persone senza dimora perché è una città più difficile da vivere senza dimora. Mentre a Mestre partiremo con i primi due viaggi che porteremo a dormire le persone che, secondo noi, necessitano di passare la notte al caldo perché magari hanno patologie o stagionali o bronchiti oppure sono anziani. L'ultimo viaggio, invece, somministreremo le bevande calde, le merendine e i vari generi di prima necessità e da là, attraverso un confronto che facciamo tra operatori, in questi primi due viaggi, scegliamo chi portare e magari dando l'accurnazione alle persone. Un veloce saluto agli operatori che questa notte lavoreranno in centro storico ed il furgone della Caracol è già pronto a ripercorrere velocemente, a ritroso, il Ponte della Libertà per puntare alla stazione di Mestre. C'è intanto una prima presa di contatto della situazione e poi iniziano i primi carichi delle persone che passeranno la notte alla Caracol. Per loro ci sarà la possibilità non solo di trovare una stanza e un cerciglio puliti ma anche di bere un tè e la mattina al risveglio di fare colazione. È giovedì, una notte speciale ci spiega Dario per chi non ha un alloggio. Oltre a quelli della Caracol ci sono infatti altri operatori oggi impegnati in stazione. Sul piazzale, ad esempio, è già attivo il mezzo dei volontari della Croce Verde. Da quanti anni è che fate questo servizio? 8 anni mi sono, se contiamo giusti i tempi. Tutte le sere? All'inizio si facevano 4 su 5 giorni, poi abbiamo cominciato adesso negli ultimi 2 anni e fa 2 giorni, martedì e giovedì. Sono tanti pazienti? Beh, quando veniamo qui ci sarà una media di 5-6 pazienti. Ce ne sono alcuni di storici, diciamo, che conosciamo, che vengono, che ormai si è installato con un buon rapporto. Ce ne sono altri di saltuari che vengono ogni tanto. Quali sono i tipi di intervento che vi richiedono? Ma la patologia più frequente purtroppo spesso sono le odontalgie, mal di denti, se no stagionali, per cui d'inverno ci sono più raffreddori, influenze, d'estate magari cose più banali legate al sudor, la sudorazione, problemi di funghi, cuttanei, in qualche ragione. Il giovedì è anche la serata in cui sono impegnati City Angels, un gruppo di volontari di nuova Costituzione che ha trovato però subito un'importante collocazione all'interno del complesso sistema di solidarietà predisposto dal Comune di Venezia in collaborazione col terzo settore. Adesso noi portiamo da mangiare ai nostri ragazzi. Abbiamo, come vede, due processi con del cibo che ci è stato donato dai due bisognati che ci siamo a mangiare, più anche la frutta. E noi portiamo appunto da mangiare ai ragazzi qui in stazione e dopo diciamo che diamo il nostro contributo per quanto riguarda la solidarietà a chi ne ha bisogno. I City Angels sono subito attorneati dagli abitanti notturni della stazione. Il cibo viene presto distribuito. E poi la volta della consegna di alcune coperte che il gruppo, composto attualmente da una docina di agenti effettivi, ma con altri che stanno seguendo i corsi appositamente organizzati, è riuscito a reperire. Sono intanto tornati per l'ultimo giro gli operatori della Caracol. È il momento, nella biglietteria ormai chiusa della stazione, di distribuire tè, caffè e merende, mentre Vittoria controlla minuziosamente quanti posti letto restino ancora da assegnare. È l'ora della scelta più difficile. Per fortuna questa sera la temperatura emite e quindi, per chi dovrà affrontare la notte all'aperto, ci saranno meno sofferenze. Qualcuno inoltre ha già un posto letto nella casa dell'ospitalità di via Santa Maria dei Battuti. Il furgone, con l'ultimo carico di passeggeri, è al completo e punta verso Marghera, dove solo nel frattempo già rientrati gli operatori che hanno lavorato a Venezia, in compagnia dei senza dimora del centro storico che potranno dormire questa notte al centro di accoglienza della Caracol. La mattina, per i senza dimora, è cominciata presto. La sveglia verso le 7, la colazione offerta dalla Caracol e poi via, in strada, per una vita sempre uguale ed insieme a ogni giorno imprevedibile. Il mercoledì mattina ed il venerdì pomeriggio c'è per molti una opportunità unica e importante, quella di poter fare una doccia al drop-in di via Trento. In due ore, ci raccontano gli operatori, sono circa una ventina le persone che riescono a lavarsi. Di più, non si può stare aperti, scarseggiano le risorse ed è stata pure sospesa la possibilità, un tempo concessa ai senza dimora, di poter adoperare la lavatrice per lavare i propri indumenti. Altro appuntamento molto gettonato dai senza dimora è quello offerto il martedì ed il venerdì mattina dal centro diurno gestito in via Querini dalla Cooperativa Ghea. Nella grande sala in cui la sera la Caritas cittadina allestisce la mensa dei poveri, i senza dimora hanno la possibilità di bere qualcosa di caldo, di guardare un film, di giocare a scacchi eppure di navigare in internet, per comunicare con i propri cari lontani, cercare opportunità di lavoro, inviare curricula. Ma soprattutto possono trovare per qualche ora persone con cui parlare, scambiare opinioni, scherzare, come succede nella vita normale, come succedeva prima. E poi di nuovo in strada, in attesa del pranzo, la mensa dei cappuccini e poi ancora fuori tutto il pomeriggio sino alla cena, ancora qui a Caletizia. Giornate scandite da luoghi e appuntamenti fissi che si concludono inevitabilmente con la notte, la temuta notte. Un'altra sera in attesa di un aiuto dai ragazzi della Caracol, dalle varie associazioni di volontariato presente in stazione, dei volontari della Croce Rossa e della Croce Verde. Togliere da situazioni di disagio, che possono diventare situazioni a rischio, le persone, aiutarle a loro a vivere con dignità la propria esistenza e dare anche un'opportunità di pensarsi in una dimensione diversa, in un futuro appunto diverso, è l'elemento vero per dare sicurezza. Per dare sicurezza ai cittadini che vivono, tra virgolette, di riflesso il problema, che qualche volta può dare fastidio, ma soprattutto di dare sicurezza a queste persone, che ripeto sono uomini e donne, persone in carne ed ossa, con le loro difficoltà, i loro problemi, le proprie storie, insomma, ma anche credo con l'opportunità dovuta di guardare ad un futuro che rischia tante volte di non esserci. Grazie per la visione! Grazie per la visione!